In casa Fiorentina le ultime ore non sono state solo quelle dell'inizio del ritiro ma anche quelle dell'arrivo in viola di Moise Khin. Il centravanti ex Juventus è arrivato al Viola Park per conoscere le strutture e svolgere le classiche visite mediche di rito alle quali seguirà la firma del contratto. Fiorentina, Khin il primo tassello per Pajadino.Con Khin che si legherà alla Fiorentina per 5 stagioni a 2,2 milioni annuni. Un investimento importante per la società agigliata che verserà nelle casse della Juventus 13 milioni più 3 di eventuali bonus. Non solo Khin perché la Fiorentina con il cambio allenatore da italiano a Palladino si ritrova ora a rivoluzionare la rosa. Tanti gli addi, soprattutto a centrocampo dove hanno lasciato Buonaventura, Duncan e Castrovilli. Oltre ai mancati riscatti di Artur e Maxim Lopez. Una Fiorentina che andrà quindi ristrutturata a partire dal reparto nevralgico del campo. La mediana, dove al momento sono rimasti solo Mandragora e Baraka i quali verranno aggiunti i vari giovani rientrati dai prestiti come Bianco e Amatucci reduci dall'esperienza in Serie B. Una Fiorentina quindi da rifondare, ma con in testa lo stesso obiettivo, continuare a farsi valere nella lotta all'Europa. Grazie a tutti.